Anche Barber nel suo libro Jihad vs. McWord insisteva molto su questo aspetto importante, cioè di un ritorno a una sorta di medioevo postmoderno. Potremmo anche chiamarlo forse come l'ha definito uno studio abbastanza recente, il nuovo capitalesimo, una sorta di feudalesimo capitalistico in cui torniamo a vivere, con anche una sorta di rifeudalizzazione dei rapporti sociali. Pensate alla figura del precario. Il precario è colui che prega, precarius deriva da prex, è colui che sta di fronte al padrone in una posizione appunto implorante, attende concessioni che possono essere concesse e revocate. E poi naturalmente vi è ancora come caratteristica quella corvè postmoderna che è lo stage. Lo stage è una corvè postmoderna in cui si regala lavoro al datore di fatto. Un tempo c'era l'apprendistato in cui ci si inseriva nel mondo del lavoro, ora c'è lo stage. Quindi sono d'accordo, bisogna appunto, micro comunità resistenti ci sono, possono talvolta sfociare nel tribalismo di cui dicevamo ieri. Quello che è evidente è che l'io è un animale comunitario evidentemente. Quello che è mancato a mio modesto giudizio nel discorso medico imperante in quest'epoca del coronavirus, che ha pensato che la vita fosse semplicemente l'organismo, l'unità biologica che respira, mangia e sopravvive. Ma quello è semplicemente lo zone, il vivente come le piante, come gli animali. Ma l'uomo per vivere necessita anche di relazioni sociali, di cultura, di simboli. Ecco, questo non può essere trascurato e sicuramente la rete internet non basta a garantire tutto questo. Occorrono comunità reali.